Al Teatro Rendano di Cosenza, sabato 15 dicembre alle ore 20 e 30, con replica pomeridiana alle ore 18 di domenica 16, l'atteso debutto della stagione di prosa con Nenzi Brilli nei panni della goldoniana Mirandolina. Scritta nel 1751, la locandiera, è la commedia di Goldoni che testimonia quel mutamento importante, la conquista di spazio da parte della borghesia a danno della nobiltà veneziana. La storia di Mirandolina, il primo personaggio femminile del teatro occidentale che reca i caratteri della modernità, è l'espressione piena del cambiamento sociale. Stratega, calcolatrice, animata da un forte spirito di rivalsa sui maschi in crisi, Mirandolina si prende gioco di conti, marchesi e cavalieri per sedurre il servitore Fabrizio, promettendogli che sposandola rinuncerà a far innamorare gli uomini per pura vanità. Nenzi Brilli, dopo otto anni, torna alla tournée attraversando tutta l'Italia, con questa locandiera diretta da Giuseppe Marini e prodotta da Società per Attori. Il Teatro Rendano di Cosenza, unica tappa calabrese, inaugura così la stagione di prosa. A pieno ritmo la vendita dei biglietti al botteghino del Rendano, così come all'agenzia in prima fila e da quest'anno anche online. Prezzi ridotti del 20% rispetto alla passata stagione e per i nuclei familiari di almeno 4 persone possibilità di richiedere la Family Card per acquistare il tagliando d'ingresso con il 50% di sconto su tutti gli ordini di posto eccetto la galleria.